e nel frattempo ci prepariamo subito all'altro collegamento con il regista tra l'altro Cagliazzo è un regista importante perché questa sera verrà presentato Sava Sandier verrà presentato al cinema Rouge Noir nell'ambito dell'iniziativa Cinema Revolution 2023 Amore post-atomico se ti faccio vedere già la locandina è parecchio intrigante è un fantasy, io adoro i fantasy oltre agli horror lo so c'è una narrazione perché questa deriva questa perversione horror è inquietante questa cosa questo è il tuo pensiero per me è adrenalina allo stato puro per me è ansia assolutamente non sei uno ansioso nella vita? abbiamo in collegamento Vincenzo Cagliazzo lo stiamo sistemando ci racconterà di questa storia di Titti ci sono dei temi attualissimi per questo ho voluto inserire in scaletta questo film e invitare anche tanti ragazzi a andare a vedere il film stasera proviamo a capire se sentiamo il nostro ospite ci senti? adesso sì adesso sì sentiamo bene la voce abbiamo sentito la voce ma non vediamo ok adesso sì mi sa che si è attivato tutto eccolo Vincenzo eccolo buongiorno Vincenzo ci si è frizzato forse sì forse forse poi sai con queste temperature i collegamenti e le connessioni sono veramente messe a dura prova eh probabilmente eccolo mi sa che qui va molto meglio eccoci ciao Vincenzo eccoci uscito salve eccoci quindi ti scioglierai probabilmente da qui a fine collegamento no no va bene in realtà si sta abbastanza bene qui perché io vivo a Somma Vesuviana è una zona di campagna quindi si sta un po' più freschi rispetto alla città ecco l'unico fastidio possono essere i cani che girano sentiamo anche gli uccellini in sottofondo cose del genere però è anche piacevole sì fa molto relax in questo momento vedo il il time che scorre e quindi poi passeremo lo facciamo subito guarda lo facciamo subito così non interrompiamo allora buongiorno a tutti sì ho sentito prima sì chiaramente la tematica del film dopo aver ascoltato Emma è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro Open Day Cinema di Radio In al regista Vincenzo Cagliazzo ben arrivato buongiorno buongiorno a tutti buongiorno Vincenzo ringrazio ovviamente l'amico comune Nicola Conticello che mi ha voluto segnalare questo tuo bel lavoro tra l'altro c'è un sottile filo rosso che ti lega al precedente collegamento perché hai presentato il tuo film Amore Post Atomico al Giffoni Film Festival e questa sera arriva in sala a Palermo al cinema Rouge e Noir e noi non vediamo l'ora intanto questa è la locandina Amore Post Atomico titolo e locandina già ci fanno pensare a milioni di possibilità diverse però chiediamo a te Vincenzo intanto come è andata l'esperienza al Giffoni che accoglienza avete ricevuto beh sicuramente al Giffoni è stato bellissimo anche quando ti fanno fare il blue carpet quindi chiaramente è un'emozione bellissima e poi soprattutto l'incontro con i ragazzi comunque i ragazzi sono un pubblico attento preciso e molto critico quindi il confronto con i ragazzi è stato molto importante molto bello anche le domande molto spesso i ragazzi fanno delle domande che non ci aspettiamo anche domande tecniche quindi è stato molto bello molto interessante sicuramente un'emozione un'esperienza importante diciamo Vincenzo prima di vedere il trailer del tuo film nella diretta Facebook volevo che tu ci anticipassi un po' i temi che affronti in questo tuo lavoro sono temi attuali come il cyberbullismo il revenge porn è comunque un film che si fa portavoce della salvaguardia del pianeta e della protezione delle api sì allora diciamo la tematica principale appunto il revenge porn perché la protagonista gira questo questo video che finisce in rete in realtà finisce proprio perché questo ragazzo ce lo mette diciamo incurante di quelle che possono essere le conseguenze proprio perché probabilmente non tutti riescono a capire perfettamente quali possono essere diciamo le conseguenze per un gesto del genere e soprattutto si pensa spesso di rimanere impuniti soprattutto sul fatto per esempio di video che vengono condivisi con altri amici e amici che condividono dei video ricevuti anche quello è un reato forse manca dapprima la percezione del concetto del reato del fatto della gravità e del fatto che sia proprio un reato sì diciamo questa tematica si lega poi al tema ambientalista nel film diciamo considerando un poco l'aridità dei sentimenti e quindi l'aridità dei sentimenti che ci porterà inevitabilmente all'aridità della natura quindi se diciamo non trattiamo bene il prossimo sicuramente siamo destinati a un mondo molto peggiore di quello che viviamo insomma e quindi la protagonista realizza questo fumetto che ogni tanto prende vita con degli attori veri è un fumetto che descrive un mondo futuristico in cui appunto le api sono quasi estinte e quindi a causa della morte delle api la natura non riesce a dare più i suoi trucchi insomma Vincenzo mi ha molto colpito il tuo trailer e sono sicuro che il film ci darà veramente grandi grandi soddisfazioni Eliana se sei d'accordo possiamo transitare nell'area facebook lo facciamo subito ma prima alla radio diamo il benvenuto ai Bee Gees con How Deep Is Your Love è qui ho una cascata nel telefono e l'ho capito perché stai giocando col telefono come si toglie vorrei tanto vorrei tanto togliere hai bisogno di aiuto vabbè no lanciami il trailer vediamo il trailer di Amore Post Atomico non possiamo fermarci qui dobbiamo continuare basta le più belle che le entra Audrey Ember ma è scelto nei lonti condanniamola il presente Black Millet è sopravvissuto forse questa è la bellezza delle guerriere alla pena di 48 ore e mi ho preso il forzato tu sei bello sei anche una guerriera sono andata di qua vabbè sarà per il treno tutto è da un nuovo spello che è successo? ma perché quella aveva fatto un video con la serie? un video? ma sei impazzita? ma porca puttana hai capito chi è questo? ma che devo fare mamma? crea la tua eroina non c'è nulla per l'animal a me ci ha da ci sa a me vorrei solessere con un mio disegno per poter sparire al punto giusto senti ma che cazzo te ne frega di stupido andiamo si allora scappiamo distruggete tutto tutto siamo entrati in questa dimensione post-atomica beh io sono molto intrigato anche dagli scenari Vincenzo perché giochi molto tra finzione e realtà tra immaginario e reale dove avete girato? allora la maggior parte delle scene post-atomiche diciamo del mondo post-atomiche sono state girate alla Balzana che in pratica è un complesso di case anche di capannoni agricoli che è stato creato diciamo una quindicina di anni fa dalla Camurra e poi è stato confiscato quindi un luogo confiscato che sta diciamo nella nostra idea era anche quella di riabilitare diciamo mettere sotto i riflettori delle location che sono abbandonate e che potrebbero essere diciamo rivalutate curate e in particolare questa location diciamo è veramente un complesso molto grande in provincia di Caserta si trova in una località si chiama Santa Maria la fossa e quindi diciamo la maggior parte delle location sono luoghi abbandonati della Campania mentre le scene esterne a Napoli città diciamo queste sono le e di noi già non avevamo mai sentito parlare di questi luoghi e hai già fatto un primo passo mi ricordo un po' la serie di Amaniti Anna con questi scenari che molti definiscono distopici però vi devo chiedere di continuare a parlare fra pochissimo perché abbiamo la pubblicità quindi vi chiedo qualche istante di pazienza e torneremo insieme in direttatura di noi fra pochissimo eccoci tornati appuntamento stasera a che ora? mi pare sai l'orario Vincenzo? Vincenzo ci senti? ah sì no ci senti Vincenzo? sì ora sì ok ok stasera appuntamento alle 19.30? ah io non lo so lo vedremo dal sito del Rouge 19.30 il nostro regista ci dice 19.30 dal sito del Rouge Noir che è stato promosso e pubblicizzato in termini appunto di iniziativa nell'ambito di Cinema Revolution 2023 Vincenzo ovviamente il film girerà in sala ma soprattutto anche nei festival sì il film sì già fatto alcuni festival prendendo dei premi adesso il prossimo festival sarà dal primo al 3 settembre a Puglia Web Fest e sì farà altri festival e poi passerà allo streaming ovviamente da settembre fino penso tutto l'anno prossimo diciamo senti Fred sì Vincenzo vai no volevo ringraziare il produttore Carmine Donofrio e le sceneggiatrici de la scena Valentina Cerasuolo e Chiara Cepollaro che hanno collaborato con me la scrittura la sceneggiatura proprio perché questo film aveva bisogno di un punto di vista femminile e quindi abbiamo scritto in tre io più altre due ragazze insomma infatti la domanda che volevo farti si è messo in minoranza anche per avere questo punto di vista femminile predominante è importante sì è importantissimo perché diciamo anche seguiamo la vita della protagonista nella sua quotidianità ed è importantissimo avere un punto di vista femminile anche perché fare un film è anche scoprire delle cose e quindi ho scoperto tante cose anche con l'aiuto di Valentina e Chiara insomma nella sceneggiatura è bellissimo tutto questo passiamo continuiamo a parlare a rete unificate stiamo parlando di amore post atomico ricordiamo questa sera l'appuntamento a Rouge Noir per questa prima palermitana del film di Vincenzo Caiazzo che è in collegamento con noi film la curio candina la state vedendo in questo momento anche all'interno della nostra diretta di Facebook tanti temi affrontati nel film vogliamo ricordarli il cyberbullismo il revenge porn salvaguardia del pianeta protezione delle api scorreva il tuo curriculum Vincenzo poco fa parlavi del prezioso aiuto che ti ha dato la sceneggiatrice quindi il punto di vista al femminile ma tu giovanissimo nasci come fonico quindi come tecnico del suono hai preso il diploma a Milano poi la svolta con un lavoro che ti commissiona la Fandango quindi questo per un giovane ovviamente è una grande occasione beh sì in realtà non è che mi hanno commissionato il lavoro in realtà io ho fatto un laboratorio proprio che si chiama laboratorio Fandango che è stato fatto una sola volta in tutta la storia da Domenico Procacci e tu lo hai vinto quindi sì ebbi la fortuna di entrare in questo laboratorio dove praticamente gli insegnanti di regia erano Paolo Sorrentino e Matteo Garrone solo solo per citare così due nomi sì che Sorrentino doveva ancora fare le conseguenze dell'amore doveva girare mentre sì Garrone stava per girare primo amore quindi erano proprio diciamo non dico agli inizi però senza contare poi che invece il nostro insegnante di sceneggiatura era Alessandro Baricco uno dei più grandi scrittori italiani che è privilegi una cosina da lunga sì e diciamo siamo stati due anni con loro noi eravamo dieci alunni diciamo e siamo stati due anni lì in Fandango alla fine ci hanno fatto fare il cortometraggio e che è stato praticamente il mio primo cortometraggio forse il secondo perché già ne avevo fatto uno proprio con pochi mezzi però diciamo il mio primo vero film è stato questo cortometraggio con la Fandango la Fondue che si chiama esatto che tra l'altro in collaborazione con Sky sì sì era prodotto da Sky e tra l'altro c'era io ebbi la fortuna di avere un grandissimo attore romano che era Remo Remotti che purtroppo è scomparso qualche anno fa però ebbi la fortuna di averlo in questo cortometraggio un grande poeta romano Remo Remotti che voglio ricordare ti fa piacere che ci abbia fatto volevo dire un'ultima cosa sulla copertina la locandina del film come tutti i fumetti diciamo le tavole disegnate nel film è stata realizzata da Daniele Bigliardo che è un grandissimo fumettista lui ha fatto anche alcune puntate di Dilan Dog diciamo un disegnatore tra i migliori in Italia Daniele Bigliardo che si lo volevo anche lui lo volevo salutare e ringraziare è una copertina d'autore sì esattamente è una copertina d'autore e Daniele è veramente un grande disegnatore lui divenne famoso per le commedie di Edoardo a fumetti che realizzò però appunto soprattutto per aver fatto i Dilan Dog però ecco ha collaborato con noi anche in amicizia diciamo lui ha preso a cuore questo progetto e lo devo dire cioè l'ha fatto quasi gratis proprio perché gli piaceva tantissimo e quindi voglio ringraziare queste sono anche delle belle storie umane di grande professionalità di grande rispetto che poi arricchiscono quelli che sono i lavori che in questo caso stiamo raccontando sicuramente diciamo o hai 10 milioni di dollari oppure sicuramente devi cercare di coinvolgere le persone con i progetti che siano interessanti siano belli per cercare anche di coinvolgere i collaboratori perché poi il film non lo fai il regista il film lo fanno gli altri anche Emilio Costa direttore della fotografia ha fatto un grandissimo lavoro Valentina c'era solo con i costumi con i quali i costumi già ha preso dei premi in alcuni festival gira fa delle mostre quindi diciamo veramente un grandissimo lavoro di due anni questo dei costumi e noi siamo curiosissimi di vederlo questa sera questo amore post-atomico intanto grazie Vincenzo Cagliazzo per essere stato con noi buona giornata grazie a voi buona giornata a Vincenzo grazie mille